Destra, sinistra, destra, sinistra Signori, caverna di Platone ancora una volta Salve A sto giro, su Dragon Ball Xenoverse 2 Colosseo dei eroi, hero Colosseum Cosa possiamo fare se non Andare a spacchettare Proprio quello che gli piace a caverna di Platone Esatto, io ci sto prendendo cussi Esatto, esatto Allora, macchina, capsule speciale Perfetto Gli ho detto un pochino come funziona il tutto Gli ho spiegato un attimo il tutto Io sono un profano, eh, lo ammetto Però, te, quando devi gasarti un attimino Io concentro l'energia psicomotoria e le butto dentro Quando vedi il PG, quando è che ti devi gasare Quando vedi, scritto UR UR, più o meno Cioè, ci sono anche UR cagose, eh Ok Quindi Vabbè, io punto al meglio Mi fido di te Allora, facciamo le 5 Abbiamo 30 tentativi, quindi 30 capsule Ok Una volta finiti i 30 tentativi, quindi le 30 capsule Si sblocca la UR garantita Ok Ed è lì che davvero devi Allora ci devo mettere tutta la forza possibile Perché troviamo la UR Ok Ma dobbiamo trovare La UR è giusta Esatto Vai Vado Non ti dico nulla Non ti dico né chi cerchiamo, niente Io non so nulla Vai, hai tutto tu Sono veramente in balia degli eventi Vai E mi emozionerò come un bambino Vedendo i miei personaggi preferiti Vediamo Oh, bellissimo questo Trunks del futuro È una merda Oh, Janemba Janemba R R R Bojack che prima ci persegui un po' Bojack Ci persegui, esatto Ok Ok Vai, ultimo Un altro reggine Sembra giusto Vabbè Sembra giusto Vabbè Ok La prima è andata Ah, io mi sono divertito Mi sono divertito Però come è andata? Un po' Una chiavica Un po' una merda Poteva andare meglio Vai, prossima, seconda Tentiamo Vai, tenta Però io ci butto comunque forza Vieni più in inquadratura Ci butto comunque energia Concentra l'energia anche nel microfono In tutto Io sto guardando Freezer E sono concentratissimo Perché è uscito un altro subito dopo Mo trovi pure l'UR Vuoi vedere? No Paddock Questo qui avevo trovato R Vabbè Va bene Vegetone Vai Culerone Culerone Incredibile, impressionante Beh, insomma Anche qui È la seconda Nel fango Nel fango, esatto Ci sta, mi piace nel fango Vai A ritentiamo Vai Mi concentro meglio Siamo a 10 10 di 30 10 di 30 Questi sono i prossimi 5 Ma dobbiamo fare in fretta Va bene Va bene Goku Poi Kappa Ok Mi piace Kappa Mi diverte Un altro Goku Va bene Non male Non male Vabbè Va bene Va bene Va bene A corto di UR siamo Un po' più di energia ci vuole Mo studio ancora di più Aspetta In fondine di più Vai Dai Dai Sai come i nonni Premono troppo forza nel braccio E poi gli esce da dietro Un altro bard Ci sono personaggi secondo me con cui ci hai fatto l'abbonamento Sì perché mi vogliono bene insomma Ecco Questo è sempre Goku Per me è Goku Goku abbronzato Tarles è Goku Sempre come Vedi Garemba che torna Goku con lampade Esatto Un altro Garemba Garemba sarà il mio Kibu Garemba Stai trovando Gira e rigira sempre Alla fine gli stessi personaggi Fra Bardak Gianimba Com'è possibile questa cosa Bardak Gianimba Bojack Sempre 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 quelli Beh Un beggito Vabbè Anche se SR Ma fatemi un attimo un colpo E ti dico Ma fatemi un leggero colpo Però vabbè Poteva succedere di tutto Itto Itto Samara Va bene Gohan E un altro Gohan del futuro Gohan del futuro va bene A me piace però Siamo a corto di UR Ultimo tentativo Poi dopo l'UR c'è Dopo l'UR almeno la troviamo Eh te lo dico Vai La frustrazione è ancora più grande Che con Gohan Andiamo avanti Ti prego Essi Però almeno qui ce la danno L'UR garantita Però vedi Ciccio Sei in posa Jojo totale Ma che sta a fare Trunks Vediamo Trunks bambino R Turisa R Adesso è sempre peggio Black R Bene Turisa completo SR Freezer sempre Fammi provare un attimo La magia mia Vabbè Tenta con le due forze Vai Vai prima di UR Tu Allora Questo è stato il tuo giro Completo Lo concludi tu Va bene grazie Vediamo Sono contento di aver fatto questo caso Vai Ok Che sia un UR decente Vediamo Tanto qui Ho visto che si è fermato Per un attimo Deva succedere di tutto Perché Allora Non mi era chiara la posa Ok Pensavo e speravo In un Veget Blue Dico la verità Gohan del Fondo Futuro ce l'avevo Ok Vabbè Vabbè Però Non malissimo Ci sono altre UR Che sinceramente La cacca Le preferissi No anzi La cacca Ok Può andare Può andare Provo un attimo io Fai 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 come se fossi a casa tua Insomma Ok Ci provo Beh Ci tranks 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 Firmata Fermo Oh cos'è sto peggio Ma l'improvviso Anche un Veget Fermati Allora Te non hai Non hai Sei contento Di aver trovato Ados Su R Sei contento Hai visto Ci volevo Che venivo Io Dov'è 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 Ma sono io che non ci vedo Sono io che non ci vedo Dov'è Che fino a Ah ok Ci sono altre pagine Giusto Bello no Figo Molto bello Ehm Oddio Oh ecco Eccola Fidati È una belva Fidati siamo andati Proprio D'addio Siamo andati Cioè L'unica Raga Vados È tantissima roba Meno 30% All'attacco di tutti gli avversari Sul campo È una debuffer Paurosa Tantissima È potentissima Tanta roba L'unica Wear Hai visto Ci hai messo Tu la magia Ce l'ho messa pure Un attimo Facciamo l'ultimo Ok Va benissimo L'ultima Boom Vai che forse Facciamo trascinare Anche dall'alto Vediamo 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 Potrebbero regalarci Un altro po' di potenza Vegeta vai Vai tu con la X Goku Vai Bardacchino Vedi che Bardacchino Mi segue sempre Incredibile Sta cosa C'è anche un back Va bene Sussimma Male Male Vai vai Siamo limitati Dai C'è andato il limite C'è andato il limite Dobbiamo smontato Dobbiamo fare un casino Vabbè signori E' andata Però è andata meglio Di quello che ce l'aspettassero Alla fa E' andata da dio Secondo me Cioè Allora Ti potrei pensare O starei pensando Che ti stia prendendo in giro Assolutamente Con Bados Fidati che è clamorosa E' una delle miniature Davvero più oppi del gioco Siamo andati Sono contento allora Di aver dato Un grande apporto Alla tua squadra Siamo andati Una bomba Quindi ancora una volta Ti ringrazio Ma Assolutamente Signori Caverna di Platone Trovate ovviamente Il link in descrizione Al suo canale Iscrivetevi Se ancora non l'avete fatto Insomma C'è stata una sculata Potentissima Ti probabilmente Faremo le prossime Pull Vediamolo così Ok Le prossime pull Le faremo in chiamata Ah va bene Oppure Aspetterò te Giustamente Io sono diventato Porta fortuna Ci diamo di nuovo appuntamento Ci facciamo ste pullate Su Xenoverse Perché Fantastico Tanta tanta roba Sono contento Quindi signori Da me Da caverna di Platone È tutto E da Vados Lo sa anche Soprattutto Sì Soprattutto Con il Requiem Della distruzione Totale E col suo De buff Incredibile Bellissimo È contento Con una Pasqua Splendido Quindi signori Da me Tutto Alla prossima Ciao Liberi di leggere Che Sì Che bella Che bella Vados Che bella Vados Che c'è frega Che c'è frega Dai Ce ne facciamo Altre Ne facciamo Altre Doppiamo pure La UR Vai C'è una UR Vabbè Oh che simpatico Sto Trunks Mi piace Il design Go Bojack Bojack Vabbè Stiamo trovando Comunque le stesse Miniature Sono sempre Le stesse C'è caspita Vabbè Vai L'ultima Ultima E poi facciamo L'UR Ok Vincita Furious Ok Votex Sempre la stessa cosa Vabbè Vabbè Vediamo Vai Adesso devi concentrare Tutto Vai Ma can cosa Poi Vai Vediamo Allora Voi ci fanno Tutto Miniatura Di merda Hitto Bah Mancava Mancava Collezione Mancava Non male Non male Poteva andare Molto meglio Però Fa proprio La trasformazione Di Brazio Da quando stiamo facendo Il live Normale Poi è entrato Nell'assetto Xenoverse Non male Poteva fare il meglio Però va bene Voto 10 Location 4 !! In 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 Grazie a tutti.